Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video sempre su Battlefield 4 e bentornati anche alla mia serie Guida alle Armi. Oggi è il secondo video di questa serie e oggi andremo a guardarci più da vicino la CWR. Come al solito inizierò dicendovi semplicemente le varie statistiche dell'arma senza approfondirle per poi andare ad analizzare bene come usarla e andare a vedere cosa significano tutte queste statistiche che vi sto per dire. Innanzitutto partiamo dal danno. Il danno massimo è nella media di tutti i fucili d'assalto o comunque quasi tutte le armi di Battlefield cioè 25, mentre scende fino a 15,4 di danno dopo i 50 metri che è un pochettino sotto la media diciamo perché un fucile d'assalto solitamente fa comunque sempre 18 di danno. Nel caricatore ci stanno 30 più un colpo, cosa intendo? 30 colpi con la ricarica, col caricatore vuoto mentre avremo 31 colpi con la ricarica tattica quando avremo ancora colpi nel caricatore. Il ratio di fuoco è di 880 colpi al minuto, un ratio davvero notevole. Come vi ho già detto, già a 4 metri inizieremo... il danno massimo comincerà a diminuire fino ad arrivare a un danno minimo a 50 metri di 15,4. Si può... quest'arma è possibile spararla in due modi diversi, con la modalità completamente automatica o semi-automatica, quindi o raffica continua o colpo singolo. Si può usare, dato che è una carabina, su tutti i kit ed è ovviamente un'arma primaria, mi sembra quasi inutile dirlo. Ora andiamo a vedere però cosa significano tutte queste varie statistiche che vi ho ora semplicemente elencato. Innanzitutto il danno, anche se il danno massimo è nella media, il danno minimo è comunque più scarso. E, per di più, vediamo che il danno minimo è già raggiunto a 50 metri. Infatti quest'arma è più indicata per le medie distanze o ancora più indicata per le corto-medie distanze. Le distanze vicinissime magari no, perché ci sono altre armi che ci possono comunque distruggere, come la EK o il FAMAS, che hanno un ratio molto molto più alto. Però sicuramente contro tutte le armi con un ratio più basso, quest'arma qui sarà stupenda. Poi c'è da dire che il caricatore di 31 colpi massimi è davvero un vantaggio, perché ha gli stessi caricatori da un fucile d'assalto ed è davvero forte. Mentre su Battlefield 3, se vi ricordate, i colpi massimi del caricatore erano 27, quindi è davvero notevole il fatto che abbia 31 colpi. A questo punto, andando a vedere di nuovo il danno e il ratio di fuoco, diventa ovvio che quest'arma non la dovete usare a 700 metri, ma la dovete usare a distanze medio, massimo, massimo, medio, distante. Io solitamente, se un avversario lo vedo a 50 metri e gli spar, non è per ucciderlo, ma semplicemente per fargli soppressione, per fargli passare la voglia di spararmi, diciamo, in modo da aver tempo di scappare e poi spostarmi, avvicinarmi a lui, avvantaggiarmi, dato che ho un'arma che va bene dalle corte distanze, per vincere il più scontri a fuoco possibile, perché alla fine Battlefield si basa su questo. Vincere tanti scontri a fuoco. Bene, quindi abbiamo detto che sicuramente una delle sue statistiche migliori è il ratio di fuoco. Il tempo di ricarica non è nemmeno male, perché si aggira comunque sempre intorno a, se non sbaglio, aspettate che devo andare a vedere perché non mi ricordo esattamente sempre tutto, in ogni caso il tempo di ricarica dovrebbe avvicinarsi, più o meno, 1,9 secondi se abbiamo ancora colpi, e invece se il caricatore è vuoto, intorno ai 2,3-2,4 secondi. Questo significa che sicuramente la differenza fra questi due numeri è grande, per questo è sempre comunque consigliabile caricare quando avete ancora almeno un colpo nel caricatore, in modo davvero da ridurre al minimo quel momento, quella fase di tempo in cui vi trovate completamente disarmati, perché mentre ricaricate è il momento in cui siete più vulnerabili. Ridurre quel tempo al minimo sicuramente è vantaggioso. Quindi caricate sempre con un colpo e riuscirete a ricaricare in un secondo e mezzo, neanche, che è completamente a posto, nel senso l'M416 magari ricarica un pochettino più brevemente, adesso non ho sott'occhio le statistiche dell'M416, ricaricherà più velocemente, ma la differenza, cioè siamo lì, nel senso è una delle armi che ricaricano più velocemente comunque, quindi sicuramente anche questo è un dato vantaggioso. Quindi andate da vicino, cercate di avvicinarvi sempre all'avversario, l'unico segreto di quest'arma è quello, anche se c'è da dire che il rinculo non è difficile da gestire, nel senso, fino ai 50 metri il vostro problema non sarà tanto il rinculo quanto la precisione dell'arma, perché lo spread dei colpi, già dopo 5-6 colpi che sparate, da più di 40-50 metri sarà davvero incontrollabile. Quindi, fino ai 50, massimo 60 metri, se sparate 3 o 4 colpi alla volta riuscirete comunque a colpire il vostro bersaglio, però farete fatica e, dato che l'arma ha un ratio di fuoco così alto, il rinculo diventa più difficile da gestire e, senza ombra di dubbio, il vostro caricatore si svuoterà in molto meno tempo, per questo non dovete ingaggiare da lontano, piuttosto mettetevi al riparo, controllate la zona, aspettate che il vostro avversario entri nel vostro campo in cui l'arma diventa eccellente e poi sparategli. Non tentate colpi impossibili e tenetevi una secondaria portata di mano nel caso dovesse finire tutti i colpi nel caricatore, perché in ogni caso è sempre importante avere una secondaria che conosciamo, su cui abbiamo gli accessori che vogliamo, che sia affidabile, e con affidabile intendo la tiriamo fuori e spariamo, è per questo che a me non piacciono la Rex e la Magnum in questo gioco come secondarie, semplicemente perché sparano con un ritardo e quel ritardo, in uno scontro a fuoco, in cui non avete il tempo di ricaricare, spesso significa morire. Ed è per questo che non mi piacciono queste due secondarie. A me personalmente, poi se voi vi trovate bene, è un altro discorso. In ogni caso, una secondaria, sempre a portata di mano, che sia affidabile, io consiglio sempre l'M9, mi piace un sacco, la CZ non è male, e pure le 45 non sono male, anche se non sono proprio indicate per il loro basso rato di fuoco. Quindi, l'M9, 93, rafica, shorty, prendete quello che preferite, dovete trovarvi bene voi con quelle armi. Ma, arrivando agli accessori, invece, della CVR, ho dei consigli da darvi. Innanzitutto, l'impugnatura angolata, direi che è d'obbligo, semplicemente perché quest'arma, sulle lunghe distanze, abbiamo detto che non va bene. Quindi, se noi non mettiamo l'impugnatura angolata, buttare giù un avversario a 30 metri può già causarci difficoltà. Se noi mettiamo l'impugnatura angolata, quelli a 30 metri riusciamo a gestirli. Quindi, invece di potenziare quello che è della CVR, è già potentissimo, cioè, rato di fuoco, precisione, hipfire, eccetera, andremo a togliere gli errori dell'arma mettendoli in pugnatura angolata. E, io consiglio, la canna pesante, soprattutto dopo la patch. È praticamente il mio accessorio preferito. Semplicemente, come vi ho detto, il rinculo non è impossibile da gestire. È più l'imprecisione dell'arma a essere difficile da gestire. Quindi, un tromboncino aumenterà soltanto il problema, dandoci un piccolo vantaggio sul rinculo che riusciremo a controllare comunque. Quindi, se non volete la canna pesante perché il rinculo diventa di nuovo troppo potente, allora lasciate la canna vuota o al massimo mettete un tromboncino anche se non lo trovo utile come accessorio. Se invece vi piace avere l'arma con una precisione maggiore, consiglio sempre una buona canna pesante più un puntatore laser per migliorare la precisione hipfire e ovviamente un mirino che vada bene sulle breve distanze senza zoom semplicemente perché percepiremo di meno il rinculo e riusciremo meglio a usare l'arma a essere anche più precisi dato che quest'arma, avendo un alto rato di fuoco ha un alto rinculo. Il modo in cui la uso io è durante anche questo gameplay che state vedendo è senza dubbio da vicino. Io proteggo questa bandiera come state vedendo adesso uccido su queste distanze ma vedete che già a queste distanze non uccido in due secondi con quest'arma. Non è l'arma giusta per uccidere da quelle distanze. Però, notate grazie al puntatore laser e già la precisione dell'arma quanto piccolo è l'apertura del reticolo di mira in hipfire. è davvero ottimo e noi questa potenza la dobbiamo sfruttare. Girare un angolo in prefire sapendo che c'è qualcuno significa la sua morte. Come vi ho già detto ci sono soltanto poche armi che nel close quarters riusciranno a causarci dei seri problemi quali come carabine e l'Mtar ad esempio alcuni EPDW potrebbero causarci dei problemi come il P90 ovviamente però sono fatti apposta per il close quarters e ovviamente senza ombra di dubbio anche quelle quelle armi come il FAMAS e la EK che sono fucili d'assalto ricordatevi che comunque le carabine sono studiate per non eccellere sui fucili d'assalto ma la potenza di quest'arma è anche che la potete usare su tutte le classi ragazzi la CWR non dovete usarla sul medico non dovete usarla sul geniere non dovete usarla sul cecchino non dovete usarla sul supporto la potete usare ovunque e questo è un vantaggio semplicemente perché avremo un'arma che conosciamo che è forte sappiamo come usarla e la possiamo usare con tutti i gadget semplicemente perché se a noi serve il cecchino non siamo costretti ad usare il fucilio da cecchino se però a noi serve soltanto ad esempio il C4 e i sensori di movimento i sensori cinetici da lanciare a posto mettiamo quest'arma sul classe del cecchino e riusciamo a usarla ci serve il mortaio? faccio un esempio stupido anche perché il mortaio lo sto usando pochissimo ci serve il mortaio? basta mettiamo questa arma l'equipaggiamo al supporto ci serve il kit medico? beh in questo caso magari pensateci perché è un po' stupido abbiamo armi che sono molto migliori a livello di armi come tutti i fucili d'assalto tipo la EK ha le stesse più o meno come la CVR è la versione diciamo un pochettino fino potenziata della CVR si comporta in modo diverso ovviamente non è la stessa arma però cioè siamo lì nel senso AEK e ACVR sono alla fine la stessa tipologia di arma se sapete come muovervi con l'AEK e non sapete come muovervi con la CVR non sarà difficile dovete muovervi dello stesso modo praticamente come vedete anche dal gameplay sparo sempre a piccole raffiche che questa è una cosa a cui ormai mi sono abituata e anche quando il mio avversario è a 2 cm da me io sparo comunque a piccole raffiche dovrei riabituarmi a sparare a raffiche continue sotto i 10 metri perché mi sembra onestamente un po' stupido però in generale devo dire che la CVR mi piace molto mi piace molto riesco a uccidere gente con un'estrema velocità non mi causa problemi nel close quarters mi causa un po' di problemi da lontano però come vi ho già detto questo è abbastanza ovvio riguardo la partita siamo su Zavod conquista grande e semplicemente il modo per aiutare la mia squadra in questa partita è stato tenere le bandiere centrali uccidendo più nemici possibili muovendomi sempre dalla bandiera B alla bandiera di fianco che se non sbaglio è C e sì copro queste due aree quasi per conto mio nel senso cerco di eliminare le squadre nemiche appena si presentano appena cercano di conquistare non sempre il gameplay è super movimentato perché dipende anche da quando arrivano i nemici però in generale riesco a fare una bella partita finirò non mi ricordo 54 15 una cosa così non ricordo esattamente è già passato un po' da quando l'ho registrato comunque stavo giocando con i miei amici che come al solito mi hanno aiutato molto anzi saluto qua saluto tutti i miei amici che ho adesso su Playstation Network devo dire che grazie al canale di Youtube moltissima gente mi ha mi ha aggiunto e io mi sto divertendo davvero davvero molto a giocare con loro saluto li saluto tutti saluto Spinal che è un mio grande amico saluto Erdandi Torpado c'è un sacco di gente simpatica ora non incazzatevi se non vi ho nominate oddio ce ne sono ce ne sono un po' che mi stanno simpatici ora non voglio perdere tempo solo con questo e ovviamente faccio ancora un salutone a tutti i miei amici che ho lasciato su Xbox 360 dato che è da un po' che non sto più giocando e comunque non ho più l'abbonamento Gold quindi mi dispiace ragazzi non posso più giocare con voi però non preoccupatevi quando non avrò la possibilità magari vado a comprare anche l'abbonamento Gold e ci facciamo due partite su Xbox 360 questo fra parentesi in ogni caso spero il video vi sia piaciuto lasciate un mi piace penso che vi lascerò ancora dato che è un bel gameplay vi lascerò penso ancora il resto del gameplay che sono ancora due minuti senza commentare in ogni caso godetevi il gameplay come ho già detto mettete mi piace iscrivetevi al canale e una cosa importante ragazzi ditemi che video volete vedere io faccio video commentari sulle novità di Battlefield su varie armi così ah ok è già finito il gameplay in ogni caso su armi così però voi dovete anche dirmi cosa volete vedere cosa vi piace vedere e questo è tutto ditemi anche se volete una recensione di un'arma particolare perché così potrò fare video su quell'arma e la metterò davanti alle altre a livello di priorità noi ci vediamo al prossimo video bella ragazzi ciao ciao